La città è una comunità organica, forte, riconosciuta sul territorio, non si può più parlare di paese. La polisportiva è l'emblema di questo territorio in Campania. Quando si parla dei colori giallorossi si parla di Santa Maria e chiunque indossa questa maglia ne deve essere orgoglioso, perché una società così non ce ne sono tante, sia per la storia, sia per i risultati, ma soprattutto per i valori morali che accomunano i dirigenti e i giocatori di questa squadra. Già dai tempi di mio zio Antonio questa squadra si distingueva per le caratteristiche di ospitalità, di lealtà e di correttezza, ma soprattutto di amore per il calcio. Chiunque giochi con questa maglia deve sapere che alle spalle c'è una comunità che ha espresso negli anni tanti 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 calciatori. Per lei la polisportiva l'ha seguita sempre solo da tifoso o è stato anche un calciatore della squadra giallorossa? Se colpisco io un pallone probabilmente bisogna andarlo a recuperare al lago. Tra l'altro mi ricordo che un tempo ogni volta che la palla usciva fuori dal recinto di gioco bisognava mandare qualcuno per strada a riprenderla, perché non c'erano le reti che ci sono adesso. Io non sono assolutamente un calciatore e non lo sono mai stato, ma sono stato sempre un tifoso. Attualmente seguo le telecronache che fate voi mirabilmente e mi tengo sempre occupato e interessato ai risultati. Però tutta la comunità di Santa Maria segue la squadra e secondo me dovrebbe essere ancora più vicina a questa squadra, perché la polisportiva con l'intervento di mio fratello Francesco e di Stefano, mio cugino, sta dando un ottimo sviluppo strutturale, professionale a questa realtà, avvicinando molti giovani e soprattutto creando un bel clima per quanto riguarda la crescita dei giovani. Io vedo nella polisportiva non soltanto un veicolo per dei risultati sportivi, ma anche uno strumento per creare una comunità di giovani che imparano i valori positivi della vita. Qualche ricordo invece del passato sempre ovviamente legato ai colori giallorossi? Allora, io prima di tutto voglio ricordare alcuni dei protagonisti. Prima di tutto i fratelli Addesso, una dinastia di portieri che ha reso onore alla polisportiva. Si sono tramandati di fratello in fratello questo ruolo importante nel gioco del calcio. E poi mi ricordo con grandissima tenerezza quel gruppo di donne che venivano allo stadio e si mettevano alle spalle della porta della squadra rivale, inveendo contro il portiere per tutta la durata della partita, che era una cosa assolutamente non pericolosa, era una cosa assolutamente simpatica, che demoralizzava il portiere avversario. E mi ricordo che alcune volte quando la palla finiva nei pressi della rete, il portiere non aveva il coraggio di andarla a ritirare, perché le signore inveivano. Fortunatamente però la tifoseria del Santa Maria è sempre stata correttissima. Non mi ricordo mai incidenti, non mi ricordo mai risse, non mi ricordo mai oggetti gettati in campo, anche perché lo stile di una squadra si rifletta nello stile del suo Presidente. E dato che mio zio Antonio era una persona di grandissima correttezza e grandissimo impegno, ovviamente la tifoseria si specchia poi nei dirigenti. E vedo che l'attuale dirigenza continua in questa tradizione e sono sicuro che mio nipote Alfonso e mio nipote Antonio continueranno in futuro su questi valori, perché questi valori si tramandano. Quindi io un appello che voglio fare ai ragazzi del Santa Maria che ho visto ieri nella presentazione in piazza è di essere testimoni di questi valori, di un attaccamento alla maglia che vuole anche significare amicizia tra di loro. A me personalmente i risultati vengono, non vengono, saremmo promossi, non saremmo promossi, mi interessa, ma fino a un certo punto. Io oggi a fine agosto dico, siate soprattutto uniti, perché se siete uniti tra di voi verranno anche i risultati e soprattutto sarete forti. Una stagione lunga, possono succedere tante cose, l'allenatore ha il diritto di fare le sue scelte, ieri ho visto che l'organico è più di 25 giocatori, quindi qualcuno giocherà, qualcuno dovrà aspettare il proprio momento. Ma se ci sarà la giusta concordia, il giusto rispetto per i ruoli, nessun risultato sarà negato, ma soprattutto sarà una stagione felice. Poi un gol si prende, un gol si dà, ieri ho visto un traversone innocuo finire in rete e abbiamo preso un gol del tutto casuale, ma non fa niente. La squadra ha reagito bene, la squadra ha attaccato, si vede che ci sono degli schemi. Soprattutto ho visto una bella tecnica di gioco e devo fare i complimenti alla dirigenza e all'allenatore perché già nei primi passi si vede un bel salto di qualità.